Se volete acquistare account o crediti food rivolgetevi a market food di cui trovate il link qui sotto in descrizione Vi ricordo inoltre che con il codice coupon FEDEMARCONI tutto maiuscolo tutto attaccato avrete un 5% di sconto Bella ragazzi bentornati sul mio canale quanto ho urlato ma quanti siamo soprattutto Non parlano Io sono sempre qua quindi Lui è sempre lui Io sempre io Non è vero Lui invece è inutile Sì sono io Dopo questa poteva anche andare via Allora ragazzi attenzione Perché dopo la sculata di David MBX che saluto Che ieri sera senza registrare ha trovato Ronaldo Iro E anche dopo la risposta Dopo la risposta di Om Ma che cazzo di culo c'hai? Ma vergognati Ma vatti a seppellire ma porca ma*****a C'è Ma Ronaldo ma No Dio c***o Perché lui perché te sì Porca c***o Spacchetto 10 milioni alla settimana Porca merda Comunque dopo questo Anche noi Anche l'attenzione perché tu non hai fatto vedere una cosa fondamentale perché il ricordo innanzitutto che oltre a Ronny ci sono Sono usciti i Tots della BPL I Mothma perché ieri sera è stata la finale di Europa League quindi Bacca chiaramente è man of the match ma poi Guardate qui Non è vero guardate qui Guardate sotto Guardate sotto Gesù 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 Questa è la squadra della settimana ragazzi Questo è lo spacchettamento epico Io dico Che se arriviamo a trovare Ronaldo O Sharawi forte Allora entriamo da qui Approfittate Ma noi siamo Qui siamo un gruppo multiettico Dove ero buonissimo Lazzale o un milanista Chi è Lazzale? Chi è Lazzale? Non vedo questo Guardate Vado di via Questa è inutile Guardate Sicuramente inutile Ragazzi Il tuo pacchetto lo sto aprendo io Bello Perché schifi Bello c***o Spoli io Spoli Pioli da Lazio Po Hai riuscito a confondere Spoli con Pioli Sì È l'emblema Ma perché parla? Cosa è l'emblema di cosa? Il barbo è l'emblema della lunghezza Questo è vero Questa te l'appoggio Non lo capite Ma che c***o te vieni? Non tocca a te tu porti male Ciao a favore Aspetta il prossimo Bistro Biden file Comunque non è la male Stai a me Buoni tutti No Non ci sono molto E che per me la canzone Mi mi portano la fortuna Sì Ma perché mi fai stronzata Nei miei video? Stai emozionato Perché non schifo? Perché non più No Ah merda Guardate Regà 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 E' l'emblema Io non so Ehm Ma che c***o è che sono adesso? C***o è? Sua madre E che dici? Oh No 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 Era sua madre veramente C***o Devi andare via Che sfiga E' tardi E' tardi E' tardi La sfiga Ciao Saluta per almeno i miei tifosi Ciao ragazzi Tifosi Vabbè Arrivederci da T-rex 99 Noi continuiamo Perché non ce ne prendo a c***o Allora Lo scasta lui L'ultimo pacchetto Almeno posso dire With T-rex 99 Perché se no non ha senso With de coco T-rex Non schifamo regà Non schifamo T-rex Non schifamo T-rex Non schifamo regà T-rex Zafrignia Ma poi anda via Madonna E' il bleepa regà E' il bleepa Ancora adams Ancora Se ti giuro è quello E io non lo so Porto più Meno male che sei andato Ciao T-rex Ciao No aspettate Sapete che adesso Il T-rex Argento Che non esiste Perché non Si 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 C'è Bertrand La Terzia L'hanno tolti No Bertrand Guarda che gay Che è là dietro Passa Passa Ma tu i ti La ricchezza Ma tu i ti Ciao ragazzi Mamma mia 7000 gredzi Faffanculo Con fracure lui Scusate No Scusate Robben sarebbe Colpaccio Guardi 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 Guardate Ok, di uf, di uf, ok ci sta questa, di tutti questi, soprattutto di questo, non ne abbiamo trovato nemmeno uno, non lo vede perché? Perché oggi non è un giornato di merda. Penso che noi ci rinunciamo tra poco ragazzi perché adesso arriviamo i crediti e poi troviamo Ronny, dai. Bella. Siamo tornati, siamo cambiati, ma siamo sempre in tre. Perché tre è il numero perfetto, è il numero minimo per un orchio. Abbiamo aggiunto anche Gamba di Squared, non scassate, abbiamo aggiunto anche Claudio. Ragazzi sono sempre i pacchetti da 15.000, io speravo che almeno aggiungessero qualcosa, spero che il culo sia tornato e quindi continuiamo a spacchettare. No, no, ma è tipo Giuseppi. Iniziamo? È incredibile. Subito. Quaresma. Vabbè, tienitelo, fratelli. Tieni, però. Vedi quanto vale Martina, se magari vale un po'... Ma questa faccia? Direi di no, però. Fa a valere giusto la droga. E li stiamo trovando. Posso capire che ho il suo modo più difficile, però, cioè, troviamo un cazzo. E' un youtuber straniero, chiaramente, che poi è andato a trovare Ronaldo Toti, quando c'era Toti. Eeeh, poi ho detto, lo aspetta, non è raro e non è Neuer. Passarella, regali, comincia la tensione, comincia la tensione. Tutti i segni portano un tozzo. Tutti i segni portano un tozzo. Con il nostro passarella. Credibile. Ma siamo lì, siamo lì, fino a due pacchetti fa non trovavamo nessun raro e adesso neanche. Ma comunque, la vorrei farlo, è un altro segno della merda. Queque, no. Queque. Questo ha dei nomi, ma anche un fulvio. Quello è il nonno di Heidi, è chiaramente il nonno di Heidi, solo che è un po' dimagrito, perché quando mi è andato nel campo di oggi, tra me è. Schippo. No, no, no! Gesù c'è. Adesso voglio Gesuisto, però. e infatti perché? perché il gesuiffa è sempre in forma bap uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa porca sottio perché è sempre in forma portavalle i tuoi 10.000 crediti perché è sempre in forma perché è sempre in forma uuuuuuuuuuh perché è sempre in forma vedi che schippare porta bazzo porca p***e è il gesuiffo capito è il gesuiffo ma super Gesù e adesso secondo tors del pack opening è più buono in forma sai perchè è sempre in forma schippa marco giù bella roba era tors abbiamo trovato Manfredini che era una garavera proprio tempo fa si poi dopo la carriera è inverso prima ballenatore poi giocatore coincidenze io non credo c'è questa assonanza incredibile no 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 oooh porca madonna dio madonna dio il club al club siiii porca godo schifpa 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 no il cazzo e pelle rara raga vaffa culo ma mia cazzo non ero stavamo resistendo ma mia cazzo ci siamo bloccati il video e abbiamo detto apriamo un cazzo di pacchetta scherzio ma mia cazzo ho trovato ma mia cazzo quanto vale? non lo so stai ma cica lo dico io se siamo fermo quanto vale? 300 tipo 560 se siamo arrivati eh guarda quanti cazzo di nozzi ma solo con Fabri che stai rifa io che scherzi ecco porca droga sono fenomeno no sono fenomeno no si fate per questo ma cazzo siamo arrivati nel pacchetta ora scuola russa bravissimo il club esatto lo so di è stato un peccopening epico fatto in due punti diversi ragionare perché noi sappiamo che fifa comunque va a orari ragazzi record breaker e avevo pensato avevo temuto di di aver perso il culo che avevo invece purtroppo purtroppo meno male no? una cifra quindi ragazzi arriviamo a 160 like e niente ragazzi voi avete qualcosa da dire? bella ok a dire di questa parola molto elegante hai qualcosa da dire? due due porco due e niente ragazzi allora tu vuoi qualcosa da dire? bella bella ci vediamo? quando ci vediamo? ieri non ieri perfetto quindi ci vediamo ieri tutti sappiamo che bella ciao